Dovrebbero pulire, non dico tutti i mesi, ma due o tre volte ogni due o tre mesi sempre. A parte il fatto che questo si ottura sempre. Questo in particolare qui a Corso Vecchio? Questo in particolare a Corso Vecchio si ottura sempre. Quindi si dovrebbe fare una pulizia più dettagliata, ma non solo qua, in tutti i tombini della città. Anche sulla Tierra Mogigliano Valessa, Villa Pavone, era tutto allagato pure. Sarà una cosa particolare, una pioggia eccezionale. La prevenzione anche in questo caso servirebbe? Servirebbe e come? Che sta facendo? Ah, pulisco. Ma lei è il titolare di questa tabaccheria? Sì, sì. Ma è un'operazione che fa sempre? Eh, diciamo abbastanza spesso. Perché questo tombino, come ci diceva anche il signore, che si trova di passaggio, si ottura spesso? Sì, ovviamente tutte le volte che piove. E ne avete parlato con il comune? Eh, qualche volta abbiamo chiamato la tramambiente. E questa volta invece tocca a voi? Eh sì. Oggi si. È complicato? No, no. Non è complicato. È facile da fare. E questa che cos'è? Acqua piovana? Beh sì, credo che sì. Grazie. 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 Grazie.